La Serie C sceglie Pesaro e la gestione della Vis Pesaro come esempio modello di una strategia virtuosa nel panorama della terza serie calcistica nazionale. Il progetto City Club, organizzato dalla stessa Lega Pro e da Procalos, enfatizza infatti il proficuo rapporto di dialogo che può intercorrere fra una società sportiva e l'amministrazione comunale di riferimento, dalla crescita del club fino alle strutture che lo sostengono. Nella sala del Consiglio Comunale gli stessi vertici della Lega Pro hanno infatti apparecchiato oggi una giornata d'approfondimento in cui indagare le strade corrette da percorrere, dal modello Vis al focus sul Sassuolo, relazionati da esponenti della società e del Comune Emiliano fino ad esempi virtuosi che arrivano da Genova o Torino. Probabilmente Pesaro è il luogo ideale dove cominciare questo che noi ci auguriamo essere un percorso che dovrà riguardare e coinvolgere proprio il rapporto tra le società della nostra categoria della Lega Pro e i comuni e le amministrazioni locali. Non abbiamo casualmente scelto Pesaro, l'abbiamo fatto perché qui c'è una realtà intanto importante e consolidata della Vis Pesaro con una proprietà secondo me illuminata e molto attenta come quella di Mauro Bosco anche proprio al tema dell'impiantistica. C'è un Comune che ha dato dal Sindaco a tutto il gruppo del Comune un'attenzione importante anche allo sviluppo e al tema dello sport. Dico che in Italia noi abbiamo quasi 600 mila partite all'anno di calcio e quindi abbiamo un movimento straordinario. Non sempre è rapportato il movimento alla casa in cui il movimento viene sviluppato, quindi mi riferisco agli impianti. Spesso sono datati, sono quasi tutti proprietà pubbliche, questo non c'è nulla di male, però non sempre il rapporto tra la parte pubblica, l'amministrazione pubblica e quella della parte sportiva funziona bene. Ripeto, anche in questo senso Pesaro è un po' una felice eccezione, c'è un ottimo rapporto anche tra la società e l'amministrazione. Quindi abbiamo scelto volutamente Pesaro, è una giornata importante, incominciamo questo percorso per cercare di sensibilizzare su un tema che è un tema che io nel mio piccolo ne parlo da 30 anni prima come giornalista, oggi come Presidente di Lega Pro ed è un tema che probabilmente non abbiamo ancora risolto, se è vero che la media degli impianti nel mondo professionistico supera i 60 anni di vita. Nessun paese europeo è rimasto così indietro dal punto di vista dell'impiantistica. Lo spirito di questo incontro è appunto quello, far capire un po' alla comunità che c'è il calcio, c'è il pallone, c'è il famoso rettangolo verde, però c'è anche tanto altro. Un club è parte integrante, un club sportivo calcistico in questo caso è parte integrante del tessuto cittadino, per cui l'incontro di oggi ci aiuta proprio a promuovere, a far capire quanto sia importante il dialogo, inserirsi nel tessuto cittadino e quante cose si possono fare in collaborazione tra un club calcistico e la città che rappresenta il club. Abbiamo cercato di portare avanti una politica che partisse dal basso, quindi dalla costruzione delle infrastrutture, dal management giusto, dai settori giovanili, per poi arrivare in prima squadra, perché il nostro convincimento è che se si vuole avere successo di lungo periodo nel calcio bisogna partire, come tutte le cose del resto, bisogna partire dalle fondamenta, dal basso, per costruire progetti di lungo periodo e non essere solo delle chimere.